Quest'anno l'ufficio di pastorale familiare della diocesi di Aversa ha deciso di proporre un corso di formazione destinato soprattutto alle coppie guida di percorsi di preparazione al matrimonio. Abbiamo scelto come titolo il Vangelo della Famiglia, una buona notizia per tutti, proprio per essere in sintonia con le indicazioni del nostro Vescovo che ci ha invitato a mettere al centro della nostra attenzione la dimensione missionaria della Chiesa. Avremo sei incontri che svilupperanno alcune prospettive nella preparazione al matrimonio con l'intento di accompagnare le coppie di fidanzati a scoprire i diversi aspetti nella scrittura, nella scelta di fede ed è sicuramente un'esperienza di formazione ma anche di comunione tra diverse coppie che provengono da tutte le foranie della diocesi.